appuntamenti e ci fa onore per il labirinto e per quello che stiamo in servizio che cerchiamo di dare anche ai giovani colleghi ma non in generale a tutti i colleghi potere averti qui con noi rappresentanza del Consiglio Nazionale ma per approfondire questa tematica perché se ne parla tanto e se ne sente parlare tanto giustamente tutta l'attività che state facendo a livello di Consiglio Nazionale è molto apprezzata da parte di tutti i colleghi e sappiamo anche direttamente che l'interfaccia con il mondo politico non è sempre così semplice, anzi, quindi i piccoli o grandi risultati che riuscite ad ottenere e riusciamo ad ottenere tutti insieme come categoria so che sono frutto di notate, di duro lavoro e quindi questo ci fa onore e con te vorrei riprendere un po' il discorso lo so che hai qui dietro le quinte quindi anche per la disponibilità che ci hai manifestato ancora grazie e un po' l'intervento prima della collega Stefania Serina, un po' anche questo di Francesco e quindi qualche tua considerazione in merito, facciamo un po' di chiacchierata e poi magari l'altro istituto importante di cui si ne sta parlando ultimamente, il Concordato Biennale so che ne state parlando proprio in questi giorni al MEF e poi il grande tema della semplificazione ma visto anche la dichiarazione l'altro giorno che leggevo tua sulla stampa, il calendario fiscale ti ringrazio, un buongiorno a tutti i colleghi collegati, grazie agli amici dell'Unione Giovane della Giunta, grazie al Presidente Cataldi, i temi della delega fiscale sono tanti, variegati partirei agganciandomi a quello che ha detto la collega prima da quello che riguarda la parte semplificazioni, che il decreto semplificazioni e adempimenti non sia la panacea di tutti i mali è evidente, ma questo è sicuramente un passo in avanti per taluna e situazioni, questo perché? Perché io continuo a ripetere a me stesso per primo che è lo stesso mantra, per semplificare bisogna semplificare prima la norma, perché se non si semplifica la norma l'adempimento non è altro che la conseguenza della norma e semplificare il nostro sistema normativo non è un'operazione che è così agevole, soprattutto partendo dal presupposto che non ci dimentichiamo mai, la legge delega ha un dogma che è quello dell'invarianza di gettito e questo rende tutto decisamente più complicato. Si è cercato di fare, ripeto, qualcosa, direi qualcosa anche di positivo, l'unica cosa che come messaggio mi sento di dire è quello delle tempistiche. Allora io parliamo un attimino di situazione regime, cioè situazione dal 2025, in cui noi oggi è scritto nero su bianco su questo decreto del P20, dobbiamo avere la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi dal primo di aprile. Presentare è un termine forte, perché presentare, come diceva prima la collega, presuppone che noi abbiamo a disposizione tutti gli strumenti, sia a livello di istruzioni, sia a livello di software di compilazione, sia a livello di software ISA. Però il fatto che sia scritto è una cosa importante, perché vuol dire che l'intendimento comune è quello di cercare di anticipare per quanto più possibile questo termine, perché se non si anticipa questo termine e continuiamo a iniziare a fare dichiarazioni a metà maggio, difficilmente noi potremo uscire da questo loop che ci costringe a tenere i fascicoli delle dichiarazioni dei redditi 10 mesi su 12 sulla scrivania. Quindi il tentativo, ripeto, lo scopriremo vivendo come disse qualcuno, di anticipare nasce da questo, però ribadisco, noi oggi non avevamo un termine iniziale, nel decreto semplificazioni c'è un termine iniziale anche per la presentazione del 770 che prima non c'era, noi non avevamo un termine iniziale, oggi abbiamo un termine iniziale, è sfidante, sì è sfidante, sarà per noi, sarà per le software house, però dal mio punto di vista, ma sono sempre aperto a sentirne in molti altri e l'unico modo, ribadisco, per cercare di concludere la campagna dichiarativa con un po' di anticipo. Per quello che riguarda il termine di presentazione della dichiarazione al 30 settembre, poi andremo a vedere dopo quali sono le ulteriori considerazioni su questi termini. Il fatto che noi oggi presentiamo le dichiarazioni al 30 novembre presuppone che con le tardive ma non nulle, cioè quelle nei 90 giorni, noi continueremo a mandare dichiarazioni di redditi del 2022 fino al mese di febbraio del 2024. Il che vuol dire che l'Agenzia delle Entrate, la Sogei, avranno la base dati completa per poter elaborare gli ISA e tutto quello che riguarda il 2023 a fine di febbraio del 2024. Allora è evidente che cercare di anticipare è necessario per cercare di avere prima questa base dati e cercare di poter anche noi iniziare a lavorare prima sulle dichiarazioni dei redditi. Poi sul fatto che il 30 settembre sia forse un po' troppo siamo d'accordo e vediamo fra un attimo quali sono le ulteriori cose che bollano in pentola. Quindi questo è per quello che riguarda le semplificazioni, ovviamente mi fermo su quello che è il dettaglio perché l'ha già fatto egregiamente la collega. Per quello che riguarda l'adempimento collaborativo ci tengo a ribadire che da un punto di vista di politica di categoria, se vogliamo, è una nuova opportunità che viene data in esclusiva a dottori commercialisti e avvocati, cioè la certificazione del modello di rischio è una, ripeto, esclusiva che viene data solamente a noi. È una sfida perché è giusto ribadirlo, come ha detto prima il collega, che è una sfida perché noi abbiamo sicuramente la base per poter svolgere egregiamente questo lavoro, perché abbiamo tutte le competenze trasversali di base che servono per approcciarci. Sicuramente non è un lavoro che abbiamo fatto tutti i giorni oggi, perché oggi l'adempimento collaborativo riguarda le imprese con oltre un miliardo di fatturato, in Italia sono un centinaio che hanno deciso di entrare in adempimento collaborativo, è evidente che su 100 aziende di quelle dimensioni non saremmo stati in tanti ad essere coinvolti su questo procedimento. Però l'abbassamento delle soglie e soprattutto la possibilità di entrarci opzionalmente, come è stato detto, rende questa nuova norma estremamente interessante anche da un punto di vista professionale. Dovremmo formarci perché dovremmo affinare le nostre competenze, dovremmo partire da competenze che abbiamo e portarle ad un livello molto alto, che è con estrema onestà intellettuale affermare che in questo momento questo livello così alto sia orizzontale su tutta la categoria merita una riflessione. Ma in ogni caso formarci, non avremo nuovi elenchi perché comunque questa situazione è all'interno dell'ordine di quello che già abbiamo, dovremmo razionalizzare la formazione, dovremmo tutti insieme trovare un sistema, non solo noi, perché poi non ci dimentichiamo che è il MEF in prima, è il governo che ce lo chiede, un tipo di preparazione specifica su questa materia, dovremmo trovare il modo affinché questa, che ripeto è un'opportunità in esclusiva, diventi un'opportunità reale che magari non sarà diffusissima, non stiamo certo parlando di 730 o dei mediari dichiarativi, però è sicuramente un'occasione di standing decisamente alto. A questa era, ti interrompo velocemente perché era nell'introduzione che ha fatto il nostro Presidente nazionale, non dico la paura ma il pensiero di nuovi albi o comunque una formazione dedicata che vada a essere diciamo, non voglio essere preinteso, cioè dedicata esclusivamente a questa come abbiamo altra formazione obbligatoria continua, ecco era un pensiero che all'interno del mondo Unione, noi che ci confrontiamo avevamo. Io ho ascoltato con estremo interesse Francesco Cataldi nel suo intervento e ho apprezzato il fatto che ci sia la consapevolezza che questa è una formazione necessaria altamente specialistica, facciamocela al nostro interno, facciamocela in maniera proficua, ovviamente facciamocela confrontandoci con l'Agenzia delle Entrate e Guardie di Finanza perché poi alla fine è proprio il sistema, questo nuovo sistema che ce lo impone perché parlarsi prima vuol dire anche capirsi prima, quindi ragionare tutti insieme su quelli che devono essere i percorsi di questi modelli di certificazione fiscale è assolutamente indispensabile, quindi siamo assolutamente d'accordo, nessuno ha mai parlato delle istituzioni dei nuovi albi, ne abbiamo stra abbastanza di quelli che già ci sono, quindi evidentemente l'obiettivo politico condiviso con voi, con le altre sigle sindacali, direi che non c'erano grossi dubbi, è quello di tenere nell'alveo della nostra professione questa nuova competenza, sviluppandola e facendo in modo che diventi un'opportunità. Adesso salto un attimo a quello che è il discorso del concordato preventivo biennale, senza entrare troppo nello specifico del tecnicismo del concordato, perché il decreto ancora non ce l'abbiamo, anche se abbiamo uno schema che comunque ci dà delle indicazioni più che tangibili. Cos'è e cosa sarà? Evidentemente a tutti sarà un modo per definire anticipatamente il reddito di un biennio per la platea di soggetti ISA ad andare giù, quindi da quelli che fanno circa 5 milioni rotti di ricavi o compensi fino ad arrivare, questa è una cosa importante, ai soggetti forfettari, quindi parliamo dai 3 ai 4 milioni di partite IVA per intenderci. Quindi una cosa estremamente diffusa che riguarderà obiettivamente in maniera molto più pregnante i nostri studi, perché è chiaro che quella fascia di clientela è quasi totalmente assistita da noi. Quindi andando bypassando un attimo la parte puramente tecnica su cui magari una volta che abbiamo il decreto facciamo dei momenti di approfondimento specialistici. Rispetto a quello che è lo schema che è circolato, si è lavorato tutti, fatemi dire, nel senso che il Consiglio nazionale lavora in modo istituzionale e quindi lavora talvolta senza poter fare annunci comunicati, perché il lavoro istituzionale presuppone anche che il dialogo abbia dei canali di riservatezza piuttosto che delle situazioni da affinare. Hanno lavorato bene le sigle sindacali, voi altre, ANC, per fare in modo che la prima bozza di schema che conteneva dei termini, obiettivamente soprattutto per quello che riguarda il 2024, decisamente stringenti, potesse avere un'evoluzione migliorativa. Evoluzione migliorativa che senza filtri ha trattato nell'ultimo mese direttamente il Consiglio nazionale, con la presenza del Vice Ministro Leo e con la presenza dei massimi vertici dell'Agenzia delle Entrate. A tutti, serenamente, nel rispetto dei ruoli, mi sento di inviare un ringraziamento perché c'è stata un'assoluta disponibilità a ragionare per fare in modo che questi termini diventassero più compliance proprio i termini, ecco diciamo. Quindi, facciamo una premessa, metto un condizionale all'inizio, ok, e facciamo il conto che tutto quello che dirò da qui in poi è subordinato a un condizionale, ma diciamo che è un condizionale proclamato con una discreta consapevolezza informativa, ecco mettiamola. Allora, quello che andremo ad aspettarci è che per il 2024, ok, noi andremo a liquidare le imposte per tutto il mondo ISA e forfettari, quindi per interdici tutto il mondo della mitologica proroga al 21 di agosto, tutto quel mondo là, ok, andremo a liquidare le imposte nel termine del 31 di luglio, quindi il termine ordinario sarà il 31 di luglio anziché il 30 giugno. Ovviamente, essendo il termine ordinario al 31 di luglio, ok, noi andremo a, avremo la possibilità di pagare con lo 0,4 entro il 30 di agosto. Soprattutto, rispetto alla prima versione del decreto che è circolata, che tra l'altro noi avevamo già immediatamente corretto, avevamo già la certezza che fosse stata corretta, fatemi dire, già nel tragitto tra una stanza e l'altra degli uffici legislativi, tutto quell'iter di rimbalzo che era previsto 10 giorni, 20 luglio, il termine massimo per la proposta, eccetera, sarà assolutamente bypassato. La volontà di aderire al concordato avverrà contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, presentazione della dichiarazione dei redditi che avverrà per il 2023 entro il 15 di ottobre del 2024. ogni tanto dico che siamo sempre sul condizionale, giusto perché poi non vorrei sapere, però rimetto, se lo dicono, no, voglio dire, non sono sotto l'effetto di sostanze allucinogene, ecco. Quindi andremo al 15 di ottobre, all'interno della dichiarazione sarà contenuta la proposta concordataria. Proposta concordataria che sarà, come noto, agganciata a uno sviluppo del calcolo ISA, ok? D'accordo, non d'accordo? La prima versione della legge delega addirittura prevedeva il superamento degli ISA, se ve la ricordate, le prime bozze, ok? Dopodiché ci si è anche resi conto che in realtà gli ISA, migliorabili, come ha detto prima la collega, abbondantemente migliorabili, tant'è che nel decreto semplificazione dei deprimenti questo c'è, però gli ISA rappresenta l'unica base concreta che ha effettivamente su larga scala l'amministrazione per cercare di elaborare dei dati sempre su larga scala. Quindi per tutta la platea ISA sarà, diciamo, una proiezione, un'evoluzione degli ISA che determinerà la proposta concordataria. Lavoro che potremmo fare in autonomia, quindi senza attenderci i dati, nel senso che il software sarà integrato in modo tale che noi autonomamente potremo calcolare quella che è la soglia concordataria ed eventualmente con, ovviamente, modulistica che sarà creata ad hoc, aderire alla proposta concordataria, ripeto, entro il termine del 15 ottobre con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per quello che riguarda i forfettari, ovviamente la situazione si complica ulteriormente perché sui forfettari una base dati concreta non c'è, quindi è probabile, ok? Potrebbe succedere che per i forfettari il 2024 sia un anno sperimentale, ok? Quindi che sia possibile l'adesione solamente per il 2024 su una base dati che l'agenzia cercherà di lavorare, si immagina, sullo storico dei redditi dichiarati da questi soggetti più su altri elementi che possono essere la tipologia di attività esercitata piuttosto che la zona geografica in cui viene esercitata l'attività, altri elementi in possesso dell'agenzia. In tutto questo percorso c'è anche l'intendimento, il richiesto a gran voce del Consiglio nazionale di bypassare, soprattutto dal 2024 in cui il ciclo della fattura elettronica è completa, sia attivo che passivo, bypassare i famosi 4 rigidi del quadro RS che tanto fastidio ci danno perché in realtà nella sostanza determinano quasi un obbligo di tenere una contabilità acquisti per un soggetto che degli acquisti francamente non ha nessun interesse essendo per definizione forfettario. Qui c'è una proposta che stiamo portando avanti noi perché diciamo che dal 2024 l'agenzia avrà ciclo acquisti e ciclo vendite, quindi avrà intero scibile della documentazione e quindi potrà fare delle proiezioni perché per i soggetti forfettari a quel punto ha il monte. Qual è l'unico dato che può essere distonico rispetto a questa situazione? Qualora il forfettario vada ad acquistare dei beni strumentali o dei beni a uso pluriannale, costi per il godimento di beni di terzi, quindi probabilmente per dare questa situazione una via efficiente, per dare all'agenzia comunque una base dati per i forfettari e per noi per togliere la necessità di fare una contabilità analitica è probabilmente di comunicare solamente il dato se compro il bene strumentale, perché a quel punto se sono, faccio esempio per esempio dell'agente di commercio che ha normalmente un ciclo assolutamente ripetitivo, da un lato fa provvigioni, dall'altro ha carburanti i ristoranti, se un bel giorno mi compro 50 mila euro di autovettura, ti dico che ho compato 50 mila euro di autovetture, quello ovviamente deve essere un dato da sterilizzare nell'ambito di un'analisi statistica, questa potrebbe essere una soluzione di compromesso che ci toglie, perché poi lì il rigo più problematico è quello in cui bisogna indicare i costi per l'acquisto di beni e servizi, che è nel caso in cui diventa. Quindi questo per i forfettari, ripeto, ovviamente dopo il decreto legislativo ci sarà il decreto attuativo, come in tutte queste situazioni, ovviamente saranno mesi in cui avremo molta carne al fuoco, perché il concordato si applicherà già dal 2024, ed è per questo che questi termini sono stati ampliati, direi a questo punto in maniera ragionevole. Sulla presentazione torno a dirvi che a un certo punto bisogna arrivare a un anno in cui si fa il salto, se noi continuiamo a presentare al 30 di novembre, l'anno dopo non si poteva accorciare, quindi 15 ottobre, vuol dire che i 90 giorni scadranno al 15 gennaio, ragionevolmente l'agenzia riuscirà a darci gli strumenti nei termini di cui ci siamo detti in precedenza. Tutte queste cose che vi ho detto, ecco, una cosa importante, per chi adirerà alla proposta concordataria, quindi il saldo del 2023, primo acconto del 2024, verrà liquidato in base al metodo storico come se il concordato non ci fosse, per intenderci, ok? Poi nel frattempo il 15 ottobre presenterò la dichiarazione e deciderò o meno di aderire alla proposta concordataria, qualora decida di aderire, con l'acconto di novembre andrò a conguagliare, perché gli acconti vengono già pagati sulla base del reddito concordato, andrò a pagare l'eventuale conguaglio. Tutte queste proposte sono state fatte proprie dalla Sesta Commissione Finanze e Tesoro, in osservazioni condivise peraltro con il Ministero, quindi con ampie, per quello vi dico che è condizionale d'obbligo ma è un condizionale relativo, ok? Con ampia condivisione, tra cui anche quella di eliminare quello che c'era nella prima versione del decreto, cioè la soglia dell'otto, ok? La soglia dell'otto per accedere al concordato, cioè a concordata avrebbero potuto accedere tutti coloro che avevano almeno 8, anche per effetti di adeguamento e da lì in poi avrebbero potuto concordare. Questa soglia sarà tolta, quindi al concordato in realtà potranno accedere tutti, è evidente, scontato, io non ho ancora visto nulla a livello di proiezione che chiaramente al decrescere del voto immagino che la soglia concordataria sia inversamente proporzionale, ecco diciamo così. E qui nel frattempo la Sesta Commissione aveva proposto anche di inserire un cap, tutto questo, un cap del 10% come incremento massimo di reddito rispetto a quello del 2023 che poteva essere concordato. Questa cosa ovviamente ha fatto strabuzzare gli occhi a molti perché, insomma, diventava una sorta di standardizzazione difficilmente, come dire, giustificabile da un punto di vista dei principi del diritto tributario e notizia personalmente a me nota già da qualche giorno, ma oggi ufficializzata anche sugli organi di stampa, che questa soglia, questo cap del 10% non troverà seguito per ovvie ragioni che ho appena annunciato. Per quello che riguarda il 2025, un'altra richiesta perché oggi nello schema di decreto a regime la proposta concordataria, che ripeto avverrà con la presentazione della dichiarazione, dovrebbe avvenire entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi, che è quindi entro il 30 giugno, parliamo di 2025, il 2024 l'abbiamo visto, consideriamo, quello che mi abbiamo chiesto è di dare la possibilità di presentarla entro il termine con lo 04 per intenderci, ma questo perché nel momento in cui, per una pura ragione di anche interesse da un punto di vista dell'erario, nel momento in cui vado a fare una dichiarazione nel maggior termine di 30 giorni, mi rendo conto che quello può essere un soggetto interessato al concordato, non vedo perché debba precluderglielo per 30 giorni, perché è scaduto il termine del 30 giugno. Altra cosa che abbiamo chiesto è di escludere tutto quel, escludere, diciamo come premialità all'accesso al concordato, gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, perché se ci pensiamo l'ISA è già, se vogliamo, una presunzione semplice, è uno strumento complesso per determinare una presunzione semplice, mettiamola così, quindi a quel punto evitare questa parte qua, abbiamo chiesto che venga inserita, sapete che una delle cause di decadenza concordato è quello che vengano accertati ricavi o maggiori componenti positivi o componenti negativi non correttamente allocati per una soglia che eccede il 30% dei ricavi o dei compensi, questo determina la decadenza dal concordato. Abbiamo chiesto che comunque oltre a una soglia percentuale venga inserita una soglia in valore assoluto, perché se ho 20.000 euro di ricavi o compensi, un accertamento da 6.000 euro farebbe decadere tutto, quindi probabilmente anche lì c'è una possibilità. Infine c'è un tema che è riportato in delega, francamente non so quanto sia stato un gimirante di inserire una legge delega, che tutto questo procedimento doveva essere corroborato da una fase di contraddittorio, quindi il discorso del confronto ex ante doveva essere, come dire, nelle intenzioni un contraddittorio da sviluppare in qualche modo. Stiamo parlando di 3 milioni e mezzo, sempre 4 milioni di contribuenti, io porto sempre questo esempio lampante, se ogni funzionario dell'agenzia delle entrate, compreso quelli che si occupano di tutt'altro, se dovesse occuparsi di questa cosa ognuno ne dovrebbe fare circa 500, quindi è una norma nella sostanza difficilmente realizzabile, se non irrealizzabile, è quello di fare un contraddittorio come lo intendiamo noi, cioè un confronto reale. Quello che stiamo provando a chiedere, che non è semplicissimo, ma ci si può provare, è quello di individuare un meccanismo per una sorta di contraddittorio informatico, nel senso che se ho delle cause di evidenza, di evidente, parliamo di situazioni peculiari che possono essere calamità piuttosto che, di poterlo segnalare in qualche modo e poi di vedere in che modo indicatori elementari di anomalia all'interno degli ISA che a volte sappiamo danno dei risultati fuorvianti, perché nel frullatore degli ISA, lo chiamo io, a volte escono fuori dei risultati che facciamo fatica a interpretare anche noi, che da un punto di vista aziendalistico, perché poi in realtà l'ISA ha una base aziendalistica da un punto di vista dell'analisi dei dati, allora che ci possa essere un modo, ripeto che andremo a valutare se è fattibile, per poter dire quell'indicatore nel mio caso c'entra niente o c'entra poco, quindi considerano in maniera depotenziata o non considerano. Quindi questa è un po' la prospettiva. era importante secondo me perché, insomma, giustamente sulla stampa specializzata, diciamo l'editoria specializzata ha dato evidenza quello che era il testo che conosceva ed era un testo che obiettivamente aveva delle problematiche, soprattutto per quello che riguarda le tempistiche. Poi su quello che riguarda la bontà o meno di una scelta di utilizzare questo tipo di strumento, ovviamente non è una decisione che compete a noi, noi siamo i tecnici che dobbiamo renderlo più efficace possibile da un punto di vista dell'utilizzo. Detto questo, ripeto, sarà una nuova cosa, non è completamente nuova perché sappiamo che nel 2003 fu già introdotto senza che abbia avuto un grande successo, però l'obiettivo di questo governo è di renderlo particolarmente, di crederci morto in questo strumento, vedremo che potrà essere un'opportunità o meno, sicuramente è un abito su misura che andrà ritagliato su ogni singolo cliente, ci potrà essere quello che ne ha un vantaggio, quello che assolutamente non ha ragione di aderirmi. In ogni caso, per noi, e qui rispetto a coloro che dicono che sarà tutto informatizzato, no, nel senso che comunque io mi aspetto che i miei clienti che possono avere un interesse siano convocati in studio, io debba fare uno studio antecedente, capire in che modo il rapporto costi-benefici, banalmente, prospettare al cliente e fare una consulenza. Persettive future anche degli anni successivi che hanno lavoro. Esattamente, e fare una consulenza. E in questo, obiettivamente, il nostro ruolo ha la sua importanza, ok, e potrà essere anche un'opportunità lavorativa ulteriore. Io spero di essere stato utile. Sicuramente sei stato utile, ci hai rappresentato un po' in un tempo limitato, di tempo che ti ringrazio anche perché siamo partiti leggermente in ritardo, l'evoluzione che ci attende sicuramente nel 2024, il perché di alcune posizioni di cui ne parlavamo anche prima con la collega che sono state prese e la visione ovviamente del CN, ma che poi rappresenta la categoria e poi gli ambiti in cui dovremo operare e come dovremo operare. Quindi sicuramente la trasmissione si chiama labirinto e quindi per noi nel perderci dietro un angolo si fa presto. Quindi abbiamo anche necessità spesso di avere delle delucidazioni, ma più che altro di vedere una strada, una strada tracciata e che qualcuno ci dica questa è la strada che stiamo portando avanti, più o meno con comunicati, stampa, quant'altro, ma stiamo lavorando su questa direzione e questo sarà il beneficio futuro che potrete avere come categoria e per quanto ci riguarda come giovani, visto che ci ha raggiunto anche la dottoressa Serena Gianluzzi della Giunta Nazionale e l'evoluzione per la categoria anche per i giovani. Quindi ti ringraziamo particolarmente. Ringrazio voi, fammi dire una cosa, l'anno scorso a Matteo dissi se avevate trovato il filo d'Arianna, diciamo che l'avete cominciato a individuare. Noi siamo assolutamente disponibili all'ascolto, alla condivisione anche, soprattutto in materia fiscale, perché poi guardate, parliamo di una riforma che arriva dopo tantissimi anni, metterci le mani è assolutamente difficile, quindi assoluta disponibilità all'ascolto, massimo impegno nel cercare di fare delle cose che siano comunque utili, di presidiare la materia, non sempre ci si riesce, sappiatelo perché, ripeto, qui alla fine stiamo parlando della materia con cui si sorregge il nostro Stato, quindi molto spesso ci sono esigenti di gettito, piuttosto che prevalentemente di tenuta dei conti pubblici, però la disponibilità all'ascolto a tutti è sempre totale e la Costituzione la garantisce assolutamente. Guarda Salvatore, io non è il mio ruolo perché da Presidente della Fondazione Centro Studi non ho un ruolo prettamente politico, ma mi posso assumere di esprimere questo concetto che è sempre stato un vanto dell'Unione Giovani, sicuramente l'Unione Giovani, la Giunta Nazionale continuerà nel suo lavoro di interlocuzione con voi, di proposte, anche di critica, ma non ci sono mai mancate, però sempre con rispetto reciproco, ecco e quindi continueremo su questa linea. Io come Presidente della Fondazione citerei qui in questa sede ad annunciarti che noi a Caserta faremo il nostro congresso nazionale a metà aprile, parleremo di riforma fiscale per fare un nuovo punto perché l'evoluzione è costante, lo vediamo anche da quello che ci hai raccontato oggi tu e quindi avrei piacere di averti, avremo piacere di averti ancora con noi in qualche tavola rotonda su cui discuterne e approfondire ulteriormente l'evoluzione. Ti ringrazio ancora veramente per la disponibilità. Un saluto a chi ci ha ascoltato e buon proseguimento. Grazie. Serena, siamo con te.